Marco, ripartiamo dalla vittoria contro Menia, che è stata una vittoria, l'abbiamo detto anche con il coach, con i tuoi compagni, di cuore, di grinta, di carattere, nonostante un'assenza importante come quella di Tavernari, in campo avete dato tutto per tutto per 40 minuti, avete ottenuto una vittoria importante in chiave playoff. Sì, molto importante, siamo stati bravi, soprattutto in offesa, 95 punti e tanto, in difesa un po' scarso, ma dobbiamo migliorare con i giocatori che stanno in campo. Nella fase offensiva, quando funziona la premiata ditta Roderick Trasolini, però non ce n'è per nessuno. Sì, penso che è difficile limitare noi due, perché, non lo so, in questo campionato, ma nell'ultima gara abbiamo avuto tutti i giocatori e aspettavamo questi altri, soprattutto i giovani. Ecco, soprattutto i giovani che però in questa fase, soprattutto nella seconda parte del campionato, vi stanno dando un grande contributo, parlo di Di Prampero, di Bolpino, di Sessi Romeo, Guaccio e così via. Sì, per forza, sarà molto importante nelle queste ultime tre partite, sappiamo che dobbiamo vincere solo uno per andare a playoff, ma vediamo pure la classifica e vogliamo essere nel top 4-5. Proviamo a sbilanciarsi un po', chi preferiresti affrontare i playoff, almeno nel primo turno? Questo non lo dico. Va bene, allora buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie, crepi.